e ci sono ragazzi benvenuti su questo nuovo video ragazzi siamo su clash royale ragazzi eccoci qua vedete un po' magico ma non siamo più qui questo video non è un video per aprirlo ragazzi oggi un paio di giorni ho fatto l'allenamento poi devo fare ora devo fare la sfida perchè la voglio vincere infatti ragazzi avevo già partita e avevo vinto questa avevo vinto le carte ragazzi è difficilissima ma proviamo con voi sfida viva la sparchi che io la odio però spero che alcuni ci hanno potuto posso avere il solismo questo mi sa che c'è a cui si chiamano sulle lì non vuol dire poi cazzutissima sposti sposti mamma mia la mia ragazza sposti la mia ragazza sposti questo è un po' l'ana c'è una lag 59 la prima quindi ora challenge non c'è via questo mazuki che ragazzi ragazze ragazzi su beh tanto quelli possono anche la scia fa i danni tanto ecco ragazzi dai dai stavamo inciando la gama no 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 dai dai ragazzi dai su e madonna che mi dà sera che mi dà sempre tutto che porta la sfiga scherzaia scherza la sfiga ma che sarà porta la sfiga oh ma se si finisce la sfida io perdevo sempre se si finisce che sto registrando davvero però l'ho buffata dai dai ragazzi ecco ecco attacca a torri attacca attacca ecco 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 eccoci qua di nuovo ragazzi che mi si è stupito la registrazione beh beh è uguale ho vinto la partita ho vinto la partita ragazzi tranquillo ho vinto la partita guardate ho vinto la partita ora facciamo un'altra con voi intanto le aggiungo le parti quindi tranquilli ok challenge nuovo il deck quello lì no salty goblin ah questo è quello che avevo battuto è quello che c'è il deck il deck della spark c'è il deck della spark quindi guarda che mi fa la zap e ragazzi dai 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 no stronzo di merda stronzo di merda e chi ti ha creato e chi ti ha preso con la comp di clash no 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 ma sai участore marga ma sai vuoi Destello date figlio di zoccola città 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ancora questo mazzo Questo mazzo è una merda, è proprio la cazzo di cane, è una merda Ancora questo mazzo è una merda Ragazzi ma dai ma Impossibile dai Voglio far vincere più leggendari L'ultimo Voglio farci un video Che la cesta opening è magico e leggendario Su Prego la scioglia Ti faccio anche guadagni a soldi Se il video ti piace la gente Su E' la verità Su Dai Vabbim vincere Clash Royale Trovami i nabbi Perché non devo essere io nabbo Come ti ho rotto la favola Aspetta Ho rotto la battaglia Vabbim vincere Allora Vabbim vincere Allora 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 Alora Soprani sta anche laggando amante 4 di vita no 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 ti prego oh cos'è ultracamaliere si so 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 ora lui aveva il mio sole stesso ma ora lui se vince che ci aveva anche il mazzo di quel mazzo lì mi incazzo perchè che cazzo questo lo metto in difesa perchè per me è più forte in difesa il grande cavallero ragazze per me è più forte in difesa ragazze per me è più forte in difesa muori strana muori strana no dai figlio della puta non 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 nemmeno le carte ma non la perdiamo ragazzi che che anche che 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che palle ragazzi l'ho persa.